Oh Befana, tu ero sera a Campocatino, tu sei scesa dalla penna? Eh, sono venuta a preparare la mia casina. Va bene, io gli vado a preparare i giochi, eh, ci vogliamo l'unità e sé, capite? Il 6 gennaio tutti a Campocatino con la Befana de Roccandagia, una giornata all'insegna della tradizione, con varie degustazioni, premiazioni del concorso dedicato alla Befana e molto altro ancora. I più piccoli potranno incontrare la vera Befana de Roccandagia, giocare con lei e con i suoi elfi.